Bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Ancora condizioni di debole instabilità sul sud Italia, ma nei prossimi giorni il tempo migliorerà con l'arrivo di correnti più fresche settentrionali. Vediamo nel dettaglio il tempo su Puglia e Basilicata per mercoledì 7 novembre. Banchi di nebbia al mattino su Arco Ionico e zone interne pugliesi. Nel corso della mattinata fenomeni interesseranno il basso Salento, copertura nuvolosa in transito sulla Basilicata con occasionali più baschi sul basso Affeglino. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa su entrambe le regioni, locali e sporadici i fenomeni si verificheranno su settori Ionici, Lucali e Salento. In serata torna il bel tempo ovunque. Per quanto riguarda le temperature, in lieve diminuzione le minime, massime di 20-21 gradi diffuse su pianure e coste della Puglia, valori oltre le medie del periodo. Per quanto riguarda i venti rinforzi da Scirocco solo su Salento, dal pomeriggio ruoteranno dei quadranti occidentali, i mari molto mosso il canale d'Ottant o da mossi a poco mossi i rimanenti mari. Per la foto del giorno oggi ringraziamo Paolo Pallara per aver fotografato alle prime luci dell'alba una suggestiva nebbia che avvolge il litorale di Roca in provincia di Lecce. Inviate la vostra foto del giorno alle nostre pagine Facebook e al numero WhatsApp e la foto migliore verrà mandato in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.